Beh, tutto questo chiaramente ha un costo. Allora, prima di parlare del chi, del perché, del per come, sarebbe meglio parlare del quanto? 20.000 euro. Mi lasci riflettere un momento. D'accordo. E dov'è questo padrone? Io non lo so. Ah. Io ho solamente questa. Il vice direttore l'ha scordata da me. Ci sono delle cose interessanti? Io non lo so. Bene. Allora la guarderò più tardi. Ecco. Perciò adesso firmiamo il contratto. Non bevo mai io. Ma va? Beh, non è grave. Facciamo così. E qui metto la sua firma. E poi una firma per il notaio per essere più sicuri, eh? Ecco. È concluso. È fatta.